Il vero ecumenismo si basa sulla conversione comune a Gesù Cristo come nostro Signore e Redentore. Se ci avviciniamo a Lui, ci avviciniamo anche gli uni agli altri. È la riflessione offerta da Papa Francesco incontrando i membri della Delegazione Ecumenica della Finlandia venuti a Roma in pellegrinaggio in occasione della festa di Sant'Errick. Il Pontefice ha ricordato la commemorazione congiunta della riforma del 31 ottobre scorso a Lund, sottolineando che l'intento di Lutero era quello di rinnovare la Chiesa, non di dividerla. La commemorazione comune della riforma, ha proseguito il Pontefice, ha consentito a cattolici e luterani di prendere maggiore coscienza del fatto che il dialogo teologico rimane essenziale per la riconciliazione e va portato avanti con impegno costante. Il 2017, anno commemorativo della riforma, rappresenta dunque per cattolici e luterani un'occasione privilegiata per vivere in maniera più autentica la fede, per riscoprire insieme il Vangelo e per cercare e testimoniare Cristo con slancio rinnovato. A conclusione della giornata commemorativa di Lund, guardando al futuro, abbiamo tratto coraggio della nostra testimonianza comune di fede davanti al mondo, quando ci siamo impegnati a sostenere insieme coloro che soffrono, coloro che sono nel bisogno, coloro che sono esposti a persecuzioni e violenze. Nel fare ciò come cristiani non siamo più divissi, ma siamo uniti nel cammino verso la piena comunione.